Assessore, dunque oggi l'evento di lancio della stagione turistica estiva l'insegna di un messaggio ben chiaro, l'unità della costa del Friuli Venezia Giunga. Beh, l'unità senz'altro, 130 chilometri di costa, 40 operatori, diverse amministrazioni comunali che tutte assieme hanno deciso oggi di dare un messaggio di ottimismo, di ripartenza per un comparto pesantemente colpito dal Covid, quale il turismo. Guardate, queste immagini parlano chiare, vediamo 25 mila ombrelloni del nostro litorale del Friuli Venezia Giulia aperte, insomma la gente ha voglia di ripartire, gli operatori hanno voglia di entusiasmo, di ottimismo, noi come Regione Friuli Venezia Giulia, oltre al sostegno economico che abbiamo dato durante la fase emergenziale, siamo pronti a sostenere gli stessi durante la ripartenza. Quindi noi ci siamo, siamo prontissimi, i numeri che abbiamo a disposizione sono numeri veramente buoni, si parla di un luglio-agosto full, si parla di un allungamento di stagione con le presenze degli stranieri, soprattutto gli austriaci, insomma dati che ci fanno davvero ben sperare. Oltre 25 mila ombrelloni aperti lungo la costa unica del Friuli Venezia Giulia, 130 chilometri di costa, con questo gesto si è voluto lanciare un messaggio ben preciso. La costa è unica e vogliamo che sia promossa in modo unitario, abbiamo cominciato proprio allo stadio del Friuli del 2019, mettendo gli operatori lì in fila con un arbitro. Poi abbiamo proseguito l'anno scorso col digitale, col portale unico delle spiagge e quest'anno facciamo un gesto più fisico e quindi apriamo gli ombrelloni tutti insieme, proprio simboleggiare da Lignano fino a Muggia, quella che è la forza della nostra costa. Da qui non si vede, ma dall'alto, accanto a noi, gli ombrelloni sono stati disposti come colorazione a lanciare un messaggio ben preciso, perché dall'alto si legge una scritta in tedesco. Si legge una scritta in tedesco, che è il messaggio che vogliamo passare ai turisti che sono più affezionati a noi, quindi agli austriaci, ai tedeschi, perché li vogliamo qui presto, li vogliamo qui in sicurezza, quindi questo Biswalde è una scelta forte, fra l'altro un simbolo che stiamo usando anche come promoturismo nelle campagne di promozione, nei talks, nei workshop. E quindi è questo il messaggio che vogliamo passare, uniti tutta la costa insieme con chi è affezionato a questa costa, i nostri cittadini temporanei tedeschi.